La Regione Lombardia ha lanciato il Portale per la Montagna. Sentiamo di che cosa si tratta in questa intervista al Sottosegretario Ugo Parolo. Sottosegretario Parolo, parliamo della Lombardia per la Montagna, una campagna di comunicazione ma anche un nuovo portale che è partito proprio dal mese di ottobre. Che tipo di comunicazione volete fare? Innanzitutto precisiamo a costo zero. Utilizzando il nostro portale di Regione Lombardia abbiamo creato un apposito link di comunicazione proprio nella home page del nostro sito istituzionale di Lombardia Notizie anche dove sostanzialmente raccoglieremo tutte le informazioni relative alle attività svolte da Regione Lombardia per i territori della montagna. È un tassello che va nella direzione da noi auspicata, ovvero di creare un format, un modello, anche una politica se vogliamo per la montagna che abbia una regia, che sia trasversale anche rispetto alle competenze dei vari assessorati, che metta in linea e in rete tutte quelle innumerevoli iniziative che noi stiamo facendo e che spesso negli anni passati non avevano appunto questa sorta di coordinamento. Quest'azione riguarda la comunicazione ma naturalmente la stessa cosa la stiamo facendo anche nella riorganizzazione dell'attività istituzionale di Regione Lombardia.